Possiamo ora passare ai satelliti. Il sistema di Saturno è ricco di oggetti in orbita intorno al pianeta. Sono riconosciuti almeno 62 satelliti principali più un centennio di oggetti che orbitano all'interno degli anelli e che contribuiscono a mantenere stabile il sistema. In questa lezione vedremo in particolare i 7 satelliti principali, quelli più grandi, in più anche i fibi, perché abbiamo visto Genera, il più grande ed esteso anello di Saturno. Abbiamo Titano, che ha una densa atmosfera di idrocarburi con laghi e fiumi, sempre di idrocarburi. Poi abbiamo Rea, che è costituito per il 75% di ghiaccio e il resto è di roccia. Lo capiamo dalla sua densità. Non ha infatti un nucleo interno vero e proprio, quindi non ha una struttura di tipo planetaria. Poi abbiamo Giapedo, che è tra i più grandi e anche più lontano da Saturno e ha la caratteristica di avere due emisferi di due colori completamente diversi, uno molto scuro e uno molto chiaro. Poi abbiamo Teti, che è costituito principalmente da ghiaccio e ha una geografia molto articolata. Ancora vediamo Dione, con un nucleo di roccia ricoperto di ghiaccio ricco di cateri e dista da Saturno quanto la Luna dista dalla Terra, circa 380.000 km. Poi ancora abbiamo Mimas, che è il più vicino a Saturno ed è la causa della divisione tra gli anelli chiamata divisione di Cassini, perché è scoperta dallo nome inoscenziato. Infatti questa divisione è talmente larga che è ben visibile tra la Terra. Vedremo anche in questa parte della lezione come i satelliti hanno una grande influenza anche sul sistema di anelli. E infine anche Encelado, che è molto piccolo, largo circa 500 km, praticamente l'Italia è più grande, però ha questa caratteristica di nascondere un oceano di acqua salata sottostante. Infatti la sonda ha scoperto dei getti di gas, dei geyser, che emettono di fatto acqua salata con molecole organiche nello spazio. Ed è una delle sorgenti del gas ancora non ionizzato che avvolge il pianeta, che abbiamo visto prima quando abbiamo parlato della magnetosfera. Quindi il gas emesso da Encelado, come quello di altri satelliti, poi vanno ad alimentare dapprima il gas neutro nell'anello arancione e poi, quando viene ionizzato dal campo magnetico, il plasma che satura lo spazio magnetico intorno al pianeta, ovvero la sua magnetosfera. Cominciamo a parlare da Titano. Titano è un satellite che ha una chimica molto complessa, la sua atmosfera ha una composizione chimica che è molto simile a quella dell'atmosfera primordiale terrestre. È un satellite particolare, la sua atmosfera è più densa di quella terrestre, nonostante la sua gravità sia più bassa, e quindi questo la rende anche più spessa, e in superficie scorrono fiumi di metano e idrocarburi liquidi che vanno a riempire laghi e mari di metano e idrocarburi liquidi. Quindi è l'ambiente che, almeno a livello passaggistico, è più simile a quello terrestre, anche se qui stiamo intorno ai meno 200 gradi. Quindi ovviamente abbiamo dei laghi e dei fiumi, quindi delle sostanze liquide in superficie, che però non possono essere acqua, però la sua geomorfologia è condizionata dal deflusso di questo materiale fluido in superficie, che crea quindi erosione fluviale e deposizione di tipo lacustre. Le basse temperature dei satellite permettono agli idrocarburi semplici, come il metano, che sulla Terra è un gas, di svolgere un ciclo simile a quello che l'acqua fa sulla Terra, ovvero evapora dai mari, crea nubi nell'atmosfera e ricade sotto forma di pioggia sulla Terra ferma, alimentando quindi il reticolo idografico, ovviamente non di acqua, ma di metano liquido. Vediamo che tra i satelliti del pianeta è anche il più grande, con i suoi oltre 5.000 km, è il secondo satellite più grande del Sistema Solare, dopo ovviamente la luna di Giove Ganimede, e è stato oggetto di studio anche dalla missione Cassini. Infatti Cassini aveva una piccola sonda, la Huygens, che si è distaccata dalla macchina principale nel 2004, ed è atterrata con un paracadute su satellite. Infatti abbiamo che questo satellite è stato il primo oggetto del Sistema Solare esterno ad aver visto l'atterraggio di una macchinaria terrestre. La Huygens è atterrata su Titano scattando delle foto durante la sua discesa. Questa fotografia è stata scattata in superficie poco prima che la sonda smettesse di funzionare a causa delle bassissime temperature. Questi che vedete non sono rocce ma sono blocchi di ghiaccio, quindi l'acqua su Titano esiste ma non scorre in superficie, siccome si comporta come la roccia sulla Terra, ovvero lì costituisce parte della crosta. Qui vediamo una mappatura del pianeta, perché ovviamente il pianeta è stato poi mappato durante i 13 anni della missione Cassini, ogni volta che la Cassini si avvicinava al satellite, con il suo radar mappava la superficie sotto le nubi. Infatti questo pianeta è continuamente avvolto da una nebbia arancione, che non ci permette di vedere la sua superficie sottostante, però questa nube arancione è trasparente alle onde radio, quindi con il radar è stato possibile mappare la superficie, creando questo mosaico di fotografie che ci ha permesso di avere una pseudomappa di Titano. Questa è una sequenza fotografica della sonda Huygens mentre scendeva sul satellite. Qui vediamo la parte superficiale dell'atmosfera con le nubi arancioni sottostanti e la parte dell'atmosfera soprastante azzurrina. Man mano che la sonda scendeva verso la superficie, scattava queste immagini a 360 gradi, che faceva vedere il paesaggio del satellite, fino ad arrivare a Terra, dove si può vedere addirittura l'orizzonte. Che cosa sappiamo della chimica di questa complessa atmosfera? Intanto è molto simile a come deve essere quella terrestre, perché ha una grande componente di azoto. Ancora oggi la Terra ha un'atmosfera costituita al 78% di azoto e 21% di ossigeno. Qui manca l'ossigeno, però in compenso abbiamo tanti idrocarburi che la compongono. Vediamo cosa sappiamo oggi. Questa è l'atmosfera di Titano, con le sue nubi arancioni, e vediamo che l'azoto, che compone gran parte dell'atmosfera, e il metano, che è l'idrocarburo più semplice che compone l'atmosfera, subiscono fotoreazioni, ovvero reazioni chimiche causate da radiazioni, dalla luce solare e dalle particelle energetiche, quindi dai raggi cosmici che arrivano dallo spazio. Queste radiazioni rompono le molecole di azoto e di metano, creando queste reazioni chimiche, in cui dalla dissociazione dell'azoto otteniamo C2H2, C2H4, C2H6 e HCN, mentre dalla dissociazione del metano si generano queste altre sostanze chimiche, altri idrocarburi, quindi C2H5, CH5, C4N5 e così via. Questi composti chimici poi interagiscono tra loro, formando di fatto diversi composti idrocarburici. Vi ricordo dalla lezione di chimica organica che gli idrocarburi sono tutti quei composti costituiti principalmente da idrogeno e carbonio, quindi la chimica complessa dell'atmosfera di titano comprende una grande interazione di reazioni chimiche che generano molti composti organici, principalmente idrocarburi. Poi vediamo che negli strati più bassi dell'atmosfera, intorno ai 1000 km, questi idrocarburi generano idrocarburi policiclici aromatici, ovvero forme di benzene. Se vi ricordate il benzene è quella molecola in cui il carbonio forma esagoni, dove ad ogni vertice c'è un carbonio, legati ciascuno con 6 idrogeni. È una molecola molto resistente. A quote ancora più basse, questi composti poi ricadono in superficie sotto forma di pioggia e di nebbiolina, quindi abbiamo questa continua pioggia sulla superficie di idrocarburi liquidi, che poi vanno ad alimentare l'idrografia della superficie. Che cosa succede di fatto? Nell'atmosfera si formano, come abbiamo visto, dei composti organici, che possono essere principalmente di due tipi, quelli solubili e quelli insolubili. Poi questi di fatto precipitano al suolo sotto forma di precipitazioni, quindi una vera e propria pioggia, oppure semplicemente come droplets, ovvero goccioline che ricadono con una nebbia sulla superficie. Questi finiscono di fatto nell'idrografia del metano liquido, quindi di fatto finiscono nei fiumi e nei mari, e in base alle loro caratteristiche chimiche solubili e insolubili creano una diversa sedimentazione, quindi queste molecole finiscono nei mari. Gli scienziati quindi pensano che questi mari di idrocarburi liquidi contengono una grande quantità di molecole organiche che potrebbero generare un ambiente molto simile a quello che ha creato la vita sulla Terra. Ovviamente sulla Terra il solvente non era il metano liquido, ma era l'acqua. Infatti questo mondo incuriosisce moltissimo i scienziati, perché è un ambiente chimicamente alternativo alla Terra, dove potrebbero esserci le condizioni simili per formare la vita. Ovviamente sulla Terra avevamo un solvente costituito da acqua e temperature molto più elevate, quindi le reazioni chimiche che costituiscono la vita hanno avuto un altro tipo di energia per poter cominciare. La grande domanda è capire se un ambiente chimicamente diverso ma simile può generare un tipo di vita diverso da quello terrestre, con meccaniche simili, perché c'è un solvente e c'è un ambiente con la chimica simile, oppure se in questo caso la temperatura è proibitiva e quindi di fatto l'acqua è veramente il solvente ideale perché rimane liquida alla giusta temperatura. Quando ho fatto la lezione sull'esobiologia abbiamo visto che l'acqua è il solvente ideale per la vita perché crea un ambiente dove le molecole organiche possano interagire in sospensione alla giusta temperatura per avere determinate reazioni chimiche. Se queste reazioni chimiche avvengono, anche queste temperature, in un ambiente simile dove il solvente non è l'acqua ma il metano che mantiene in sospensione le stesse molecole organiche, probabilmente possiamo scoprire che la vita ha molte più possibilità di avvenire in tante condizioni diverse. Quindi Titano è proprio un laboratorio chimico ideale per poter capire se possono esistere anche altri tipi di chimiche della vita, oltre a quella che conosciamo qui sulla Terra. Andando a vedere la struttura interna del satellite, vediamo che il satellite è molto grande ma all'interno contiene un nucleo di silicati idrati, infatti la sua composizione principale è fatta di acqua. Se noi andiamo a confrontare la composizione chimica degli oggetti del sistema sull'interno come la Terra e di quello esterno come Europa e Titano, vediamo che gli oggetti che si sono formati nel sistema sull'esterno sono costruiti principalmente da fluidi, ovvero materiale più leggero. La Terra è fatta da silicati e da metalli con una piccola quantità di acqua che ovviamente vediamo sulla sua superficie sotto forma di oceani, mentre Titano e Europa sono costruiti da una grande quantità d'acqua in rapporto al loro volume, ma comunque sempre maggiore di quello che ha la Terra, e che quest'acqua non solo si trova in superficie ma costituisce principalmente la struttura interna del pianeta. Cosa comporta questo? Che i due satelliti non sono solamente più piccoli della Terra, ma sono anche meno densi. Vediamo poi che sotto la crosta ghiacciata di Titano può esistere uno strato di acqua liquida, quindi esplorando il sistema sull'esterno stiamo scoprendo che oceani di acqua liquida sotto una crosta ghiacciata possono essere molto più comuni di oceani in superficie come vediamo qui sulla Terra. Quindi è probabile che gli ambienti ideali per la vita più comuni sono quelli degli oceani sotterranei di lune ghiacciate piuttosto che quelli di oceani superficiali di pianeti terrestri come il nostro. Poi vediamo che al di sotto esiste un altro tipo di ghiaccio che è diverso da quello che costituisce la superficie, perché vi ricordo che a una certa pressione l'acqua acquisisce uno stato solido non per la temperatura, cioè non perché fa freddo, ma perché la pressione costringe le molecole a prendere una conformazione solida. Quindi esiste un tipo di ghiaccio caldo sotto questo oceano di acqua sotterraneo che ha una conformazione di tipo tetragonale, cioè è un tipo di ghiaccio che ha anche un abito cristallino diverso dal ghiaccio freddo che invece si forma a causa della temperatura, infatti qui l'ho chiamato ghiaccio normale, e questo ghiaccio 6 o ghiaccio tetragonale. Cosa possiamo dire ancora di questo satellite? Ovviamente la sua atmosfera, abbiamo la parte alta dell'atmosfera che è quella trasparente e che genera questo alone azzurro attorno al pianeta, poi abbiamo lo strato di foschia arancione che ci impedisce di vedere la sua superficie, se non con strumenti radar, e poi la bassa atmosfera con la chimica di idrocarburi che abbiamo visto nelle slide precedenti. Vediamo che comunque Titano è il secondo satellite per dimensioni del Sistema Solare. Abbiamo già visto nella lezione precedente che Ganimede, la luna di Giove, è la più grande di tutte. Infatti Ganimede arriva a un diametro di 5.262 chilometri contro i 5.150 di Titano. Se andiamo a confrontare questo satellite con gli altri oggetti del Sistema Solare, vediamo che supera le dimensioni di Mercurio, quindi anche Titano è più grande di Mercurio, però ovviamente essendo fatto per maggior parte di acqua è molto meno denso, perché Mercurio ha un grande nucleo di ferro, quindi Mercurio ha sicuramente una gravità maggiore di Titano. Poi abbiamo Callisto che è una luna di Giove e poi abbiamo le altre lune. La nostra luna è sicuramente più piccola di Titano e qui possiamo mettere a confronto Titano con la Terra e la nostra luna. La Terra è l'oggetto roccioso più grande del Sistema Solare, quindi qualsiasi satellite del Sistema Solare non si opererà mai le dimensioni della Terra. Parliamo adesso di Giapedo, che è il terzo satellite per dimensioni di Saturno. È tra questi sette il più esterno e ha questa caratteristica di avere un emisfero molto chiaro e uno molto scuro. L'emisfero più chiaro è almeno dieci volte più luminoso di quello più scuro. E una teoria per spiegare questo fenomeno è che una parte del satellite è stato ricoperto dalla polvere proveniente da Febe. Infatti abbiamo visto che Febe alimenta un anello esterno intorno a Saturno. Questo anello può depositare della polvere su un lato di Giapedo e questo lato, diventando più scuro, assorbe più energia solare facendo evaporare i volatili della sua superficie, perché ricordo che questi oggetti sono costituiti da materiale volatile che abbasse temperature di evaporazione. Questo materiale evaporando si sposta lungo la superficie e si ridiposita sotto forma di neve dalla parte opposta del satellite, che quindi ha acquisito nel tempo una colorazione più chiara, perché riflette più luce. Ancora, questo è stato un fenomeno che si è autoalimentato, perché man mano che questo lato diventava più chiaro, rifletteva ancora di più la luce del Sole, diventando ancora più freddo e quindi intensificando la condensazione di materiale chiaro proveniente dal lato opposto del satellite. Quindi questo meccanismo si è accentuato nel tempo, creando un lato molto scuro e un lato molto chiaro. Poi Giapedo ha un'altra caratteristica, ha questa cordigliera che in alcuni punti supera anche i 10 km di altezza, che avvolge tutto quanto il satellite per una lunghezza totale di 1300 km. Secondo una teoria degli scienziati, questo potrebbe essere un antico anello collassato proprio sul satellite, quindi lungo il suo equatore. Però ovviamente finché non si va là non si può capire che cos'è, ma è particolare perché è una lunga cordigliera che ricopre esattamente l'equatore del satellite. Poi andiamo a vedere le scogliere di ghiaccio su Dione, infatti il quarto satellite per dimensioni di Saturno è questa luna ghiacciata, costituita principalmente da ghiaccio, che ha queste strisce bianche molto chiare in superficie. Erano state già osservate dalla sonda Voyager, quindi questa è una primissima foto della sonda che la videva lontano e con la sonda Cassini è stata poi studiata in dettaglio scoprendo che queste lunghe linee bianche sono delle vere e proprie scogliere di ghiaccio che attraversano il pianeta e che tradiscono un antico fenomeno di tettonica placca o comunque sia un antico processo geologico che ha interessato la superficie del satellite. Poi ancora passiamo a Encelado che è una luna molto piccola, almeno 500 km di diametro, quindi l'Italia è più grande, però ha questa caratteristica di avere dei forti getti di geyser lungo il suo polo sud che tradiscono un oceano sotterraneo. Infatti questi geyser sono stati analizzati dalla Cassini e hanno scoperto acqua salata, quindi acqua che esiste da molto tempo perché ha avuto il tempo di sciogliere le rocce del pianeta, quindi i suoi sali, e anche molecole organiche, quindi questo è un possibile ambiente nel sistema solare che potrebbe ospitare la vita. Osservando i satelliti all'infrarosso si vedono lungo il polo sud queste quattro fratture chiamate i quattro graffi di tigre, perché sembrano proprio i graffi di una tigre, da cui fuoriescono questi getti di gas che sono stati osservati e fotografati dalla sonda Cassini e quindi dimostrano un'attività geotermica molto elevata. Vi ricordo che in queste lune così piccole la geodermia è alimentata dallo stress mareale che le lune subiscono orbitando intorno al pianeta, quindi questo non può essere un calore geotermico che deriva dalla formazione della luna all'origine del sistema solare, ma che si genera continuamente quando la luna viene stressata e deformata da potente forze di marea mentre orbita attorno a Saturno. Qui vediamo le quattro faglie lunghe almeno 100 km e profonde 500 m. Ancora, vediamo Mima e Phoebe che sono due piccoli satelliti, Mima è questo satellite con questo gigantesco cratere nell'emisfero nord e Phoebe è quella piccola luna che alimenta l'anello più esterno di Saturno con la polvere che emette quando viene colpita da piccoli oggetti e che è anche la causa poi della differenza tra i due emisferi di Giappedo. Ancora, vediamo Teti e Rea che sono tra i satelliti più piccoli e vediamo di fatto che Teti ha un diametro di 1080 km mentre Rea di 764 km. Addirittura Rea è l'oggetto più piccolo del sistema solare che riesce ad ottenere un equilibrio idrostatico. Che cosa vuol dire? Che praticamente è a malapena grande per acquisire una forma sferica. Fosse stato leggermente più piccolo, quindi avesse avuto una massa un po' più piccola, la sua gravità non sarebbe stata sufficiente a modellarlo in forma sferica. Sulla superficie di Teti troviamo questo gigantesco cratere, cratere Odisseo, con un diametro di 400 metri che è largo almeno un terzo del diametro del satellite e che dimostra un devastante impatto che ha quasi distrutto il satellite. Mentre analizzando la densità di Rea, che è poco inferiore a quella dell'acqua, si scopre che questo oggetto è praticamente totalmente composto da acqua. Quindi vedete come la composizione chimica degli oggetti del sistema solare esterno sono costituiti principalmente non tanto da metalli estricati quanto da ghiacci di volatili, quindi acqua, ammoniaca, metano e così via. Andiamo ancora avanti e parliamo dei satelliti troiani. Alcuni satelliti non hanno una propria orbita ma condividono l'orbita con satelliti più grandi. Infatti abbiamo che questi due satelliti Telesio e Calypso, che come vedete non hanno una gravità adeguata da conferire una forma sferica, sono imprigionati nell'orbita di Teti, mentre Elena e Paul Lux sono imprigionati nell'orbita di Dione. Che vuol dire imprigionati? Abbiamo già visto cosa sono i punti di Lagrange, ovvero quei punti lungo l'orbita di un oggetto che sono di fatto delle vere e proprie trappole gravitazionali dove oggetti minori possono rimanere incastrati. E nel caso di Teti, nel suo punti di Lagrange, L4 e L5, vediamo intrappolati Telesio e Calypso, mentre nel caso di Dione abbiamo intrappolati Elena e Paul Lux, quindi questi sono gli unici casi di satelliti troiani scoperti nel Sistema Solare, ovvero satelliti minori intrappolati nell'orbita di satelliti maggiori nei suoi punti di Lagrange. Poi abbiamo una grande quantità di satelliti pastore. Cosa sono i satelliti di pastore? Sono quei satelliti che si trovano all'interno del sistema degli anelli e che con la loro gravità creano le divisioni, i gap e mantengono compatti i singoli anelli. Quindi il sistema di anelli oggi è compatto anche grazie a questi satelliti che mantengono in fila il materiale più piccolo. E sono questi qua. Ovviamente sono molti di più, perché come detto prima abbiamo un centinaio di oggetti molto grandi che obbedano in questi anelli, però questi sono i principali. Atras, Epimetheus, Pandora, Duffins e Pan. Sono tantissimi. Non tutti i nomi sono stati tradotti in italiano, alcuni sono rimasti originali dagli scopritori. E qui vediamo Encelado con l'anello E che viene costituito dalla emissione dei suoi geyser, quindi i geyser di Encelado alimentano l'anello E. Questo è solamente un estratto della lezione completa su Saturno. Nella lezione completa parlerò della scoperta di altri esso pianeti che orbitano intorno ad altre stelle con anelli simili al nostro Saturno. Parlerò della complessa struttura degli anelli di Saturno e del rapporto che hanno con i satelliti. Ovviamente parlerò anche dei satelliti e mi soffermerò in particolare su quelli più interessanti, come ad esempio Titano, in cui spiegherò in modo dettagliato anche la chimica della sua atmosfera. Questo ed altro ancora, nella lezione 13 completa del mio corso di astronomia, il pianeta Saturno. Potete trovare questa lezione e tutto il corso di astronomia nel mio canale YouTube e sulle pagine Instagram e Facebook Prof. Antonio Loiacono. Grazie